Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria responsabilità professionale e diritto sanitario. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno, responsabilità medica malasanità. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per gli oltre 35 anni di attività di tutela legale nel diritto civile, dalla responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria al costante impegno in difesa del diritto alla salute, assistendo chi è stato vittima di malasanità e i loro familiari. Per l'approccio innovativo e l'attività divulgativa sul portale impegnosalute.com. Il premio va a Studio Legale Marzorati. È un piacere avere qui con me e lo invito a salire sul nostro palco. Andrea Marzorati, main partner dello Studio Legale Marzorati, così posso consegnarle a mano il premio. Benvenuto, grazie per essere qui. Bellissimo, veramente bello. È una grande emozione. Sono molto contento per questo riconoscimento e un grazie soprattutto al mio team, senza il quale non sarebbe stato possibile. Assolutamente. Allora, ora, prego, si accomodi. Che cosa? Le chiedo qualcosa di più. Insomma, ovviamente il ringraziamento al team è doveroso, assolutamente. Noi parliamo tantissimo di sinergia, di rete, soprattutto in questo momento, a prescindere dal fatto che poi i successi si ottengono tutti insieme. In questo momento storico, che cosa significa questo riconoscimento in modo ulteriore, secondo lei? Beh, innanzitutto grazie per questo riconoscimento che dà la prova di quello che è stato fatto in quest'anno, che è stato un anno pieno di soddisfazioni, ma anche ovviamente difficile per la questione del coronavirus. Quindi noi abbiamo operato all'interno dello smart work, come un po' tutti. Eravamo già preparati a livello informatico, perché abbiamo già tutto digitalizzato e sul cloud. E quindi è stato, diciamo, un anno particolare, insomma. Certamente. Insomma, quindi diciamo che siete partiti dalla base che avevate già strutturato e avete dovuto accelerare. Questa è un'altra chiave, no? Di lettura di quest'anno. Un'accelerazione che chiaramente abbiamo dovuto per forza di cose sostenere. Assolutamente sì. Diciamo che noi operiamo in tutta Italia, per cui siamo abituati con i nostri clienti a dialogare tutto a livello digitalizzato, scannerizzato. È chiaro che l'approccio che oggi c'è è rivolgersi più che ad un avvocato sotto casa generalista, cercare uno studio legale che possa essere specializzato e quindi in questo andare anche indipendentemente dal fatto che l'ufficio non sia sotto nella propria città e quindi questo vuol dire che le, diciamo, i clienti sono stati in questo, diciamo, non hanno mai avuto con noi nessun tipo di interruzione. Lo stesso dicasi per i medici legali e gli specialisti che collaborano con il nostro studio. Certo, peraltro, così mi riaggancio anche alla motivazione che è sempre importante, si parla di oltre 35 anni di esperienza proprio di tutela legale nel diritto civile e poi parliamo di cose fondamentali, insomma, nella vita in generale figuriamoci in un contesto precario e sensibile a questo, come quello che abbiamo vissuto quest'anno, responsabilità professionale del medico e naturalmente anche la difesa del diritto alla salute, cioè dimostrare sempre di più di esserci in questo contesto. Esattamente, diciamo che il nostro progetto è proprio, credo, un diritto effettivo alla salute, nel senso che chi viene seguito dal nostro studio non deve pagare né la perizia, il medico legale, né quella dello specialista, ma neppure deve anticipare i compensi dell'avvocato, dei medici legali, dei medici specialisti, per cui questo vuol dire avere una tutela effettiva della salute, perché molte volte succede che queste cause sono cause complesse e quindi anche costose da affrontare, mentre invece il tipo di approccio un po' innovativo che abbiamo introdotto è proprio questo, oltre ad altri aspetti. Ecco, un'altra cosa, l'attività divulgativa, anche questo è importantissimo, non si può rimanere in una nicchia, ma bisogna estendere sempre di più il portale impegnosalute.com. Sì, noi abbiamo fatto questo portale diviso in diverse sezioni, alcune, una sezione ha delle informazioni utili, altre degli articoli medico-legali, ovviamente il taglio è un taglio divulgativo, quindi con un linguaggio semplice, comprensibile, proprio perché chi poi legge questi articoli non è un addetto del settore e poi è una parte dove spieghiamo che cosa facciamo, come lo facciamo e quali possono essere un po' i plus. Dicevo prima il fatto che chi viene da noi assistito non deve anticipare nulla per quanto riguarda la parte dei compensi, il fatto che li seguiamo in tutta Italia, il fatto che abbiamo una rete capillare di medici legali e medici specialisti che ci seguono durante tutto l'iter, il fatto che seguiamo, diciamo, pratiche che riguardano tutti gli aspetti della medicina legale, quindi quando c'è un caso creiamo il team, mettiamo, abbiamo un caso di responsabilità medica e possiamo inserire il medico legale, il ginecologo e lo psichiatra forense, se c'è un caso, ad esempio, di chirurgia, il chirurgo, il neurofisiatra, cioè ci sono tutta una serie di… Tutte figure professionali che possono andare, come dire, ad avvicinarsi a chi ha bisogno. Esattamente. Beh, complimenti, io naturalmente, complimento con lei e con tutto il suo team, lo ha detto in partenza, a tutto lo studio legale Marzorati e magari adesso io e lei continuiamo a chiacchierare di questo diritto alla salute che è fondamentale, io questo glielo riconsegno, resti pure seduto accanto a me, intanto ringraziamo anche chi ci segue e chi lavora con lei tutti i giorni. Assolutamente, sì, assolutamente. Importantissimo. E complimenti, grazie Andrea Marzorati, main partner studio legale Marzorati per questo premio, che è di eccellenza dell'anno, responsabilità medica, ma la sanità. Grazie. Grazie a voi. Grazie.